La mostra Quel che rimane vede come protagoniste due artiste che sono avvolte da una comune eleganza. Giulia Gaiarossi e Sofia Sottocorona raccontano appunto la poetica del ricordo e lo fanno sia con dei progetti singoli appunto personali sia in un'installazione congiunta a quattro mani. Per quanto riguarda i progetti singoli vanno a creare un po' un processo specchio all'opposto in cui raccontano di memorie perdute, mai dette, mai scritte. Questa serie di lavori nasce in parte dalla necessità di ristabiliare un contatto con qualcosa che ho perso. Attraverso un processo di sottrazione cerco di ricongiungermi con l'essenziale, quindi in questo caso con alcuni aspetti che ruotano intorno ad un ricordo. Ogni intervento si pone fra il desiderio di rivedere alcune cose e l'impossibilità di poterle raggiungere a tutti gli effetti. La formica rappresenta un po' un modulo, è una ricerca che parte da tantissimi anni fa, poi ovviamente si è evoluta ed è maturata. La formica in alcuni episodi impersonifica l'uomo, ma in alcuni casi invece è colei che mi aiuta a formi delle domande da cui io purtroppo ancora non riesco a ricevere risposta. Le mie apere affrontano la tematica del ricordo e si sviluppano su una ricerca che tende a cercare di tirar fuori ciò che purtroppo la mia mente ha deciso di dimenticare col tempo, oppure appartiene a qualcosa di talmente tanto lontano che comunque non riesco più a tirar fuori.